Questo podcast è sponsorizzato da OneRound, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneRound fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com Bene, ChatGPT ha ripreso a funzionare anche in Italia, dopo che il garante aveva chiesto alcune spiegazioni sulla privacy e sulla protezione dei minori. A quanto pare l'Italia è uno dei paesi che più utilizza questo software, diciamo questa intelligenza artificiale, tanto per capirci, ma poi vedremo che così non è. E magari qualche filosofo, qualche sociologo avrà anche qualche spiegazione del nostro enorme uso che facciamo e che vorremmo fare di ChatGPT qui da noi. Comunque in questo episodio vi spiego brevemente che cos'è esattamente ChatGPT, che cos'è un programma, un software di questo genere, dove potete ritrovarla nella sua versione migliore e anche alcune cosette che l'algoritmo ha fatto nel settore del beverage. Di qualunque tipo o comunque di intelligenza voi siate, io sono Rolando, il vostro amichevole podcaster e questo è ancora una volta The Digital Wine. Buon ascolto! Ora che ChatGPT è nuovamente disponibile in Italia possiamo iniziare a vedere che cos'è realmente. Magari questa pausa è servita anche per togliere un po' quel senso di brama che c'era all'inizio dove tutti quanti volevano usare questo software, questa intelligenza artificiale. Ecco, intanto smettiamo di chiamarla intelligenza artificiale. Ancora non è intelligente, almeno non ancora insomma, ma è semplicemente un software, semplicemente per modo di dire, comunque è un software che ha accesso ad un sacco di informazioni. È un algoritmo a cui si può accedere grazie ad una chat e quindi è un sistema a domande e risposte. È lo stesso meccanismo di quei sistemi a domande e risposte appunto che si trovano su qualche sito web dove vi fanno credere che ci sia un assistente virtuale tutto per voi, chiaramente nessuno ci crede. È un bot lì dietro appunto. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ossia trasformatore generativo preaddestrato. Il nome sembra abbastanza strano, però è esattamente quello che è questo software, cioè un programma che trasforma gli input, cioè le domande, generando poi delle risposte, quindi l'output, e questo grazie al suo preaddestramento, ossia al fatto che ha accesso a milioni di documenti e notizie e filmati e commenti e post sui social, quindi tutte le informazioni che gli si potevano dare. È quello che si chiama un software per la modellazione di grandi linguaggi e con questo mi sembra di essere stato già abbastanza chiaro, no? Però se così non fosse, adesso andiamo a dare qualche spiegazione in più, per quanto è possibile. Dunque, un trasformatore, cioè il Transformer, che è la parte, la T del GPT, è un algoritmo che prende le informazioni che gli vengono dati, ad esempio i documenti, i libri, le chat dei social e cose del genere, e ci costruisce sopra dei parametri, degli identificatori, prende delle parole chiave, diciamo, che poi serviranno per confrontare le informazioni possedute con la domanda che gli viene fatta. Maggiore è il numero di parametri di confronto, chiaramente migliore sarà la risposta, perché potrà vedere all'interno di tutti quanti i documenti che possiede quali sono quelli che hanno gli stessi parametri della domanda che avete fatto. Ad esempio, la prima versione di GPT è la 3, che aveva 175 miliardi di parametri, mentre quella corrente, quella che c'è adesso, è la versione 4, che però è quella a pagamento, non è quella a cui potete accedere ancora in modo gratuito, e questa versione, la 4, appunto, ne possiede più di un triliardo, cioè mille miliardi. Un'altra differenza tra le due versioni è che mentre la 3 e la 3.5, che diciamo è stata una cosa, una via di mezzo, fra la 3 e la 4, queste due versioni possono accettare in input soltanto testo, mentre la 4, la versione 4 di GPT, può prendere anche delle immagini, musica, spezzoni di filmati, insomma, è un po' più flessibile. Il tutto è chiaramente un pochettino più complicato, di così, parliamoci chiaro, ma è lo stesso meccanismo che, ad esempio, utilizza Google quando vi dà le risposte che avete chiesto, o un altro motore di ricerca, ad esempio, che so, la ricetta della carbonara, o come si cambia il rubinetto, o qual è il nome del cagnolino di un certo attore, sono quelle domande fondamentali della vita, l'universo e tutto quanto. Quello dietro alla pagina di Google anche è un transformer, cioè un software, un algoritmo, che prende le vostre domande e le confronta con le caselle della tabella che ha costruito, correlando tutti quanti i siti web e i loro contenuti. È questo che serve, ad esempio, fare la SEO, cioè la Search Engine Optimization, e quindi il transformer è questa cosa qui. Prende delle informazioni, ci costruisce sopra dei parametri e con questo qui riesce a trasformare le domande in risposte. Generative vuol dire appunto che genera dei risultati, cioè fornisce le risposte appunto alle domande, quindi fa la trasformazione e poi c'è la generazione delle risposte. Pre-addestrato significa che è il metodo che utilizza per fare il confronto tra le informazioni che possiede e la domanda che voi avete fatto. Supervisionato può essere non supervisionato. In pratica vuol dire che può usare dei parametri già esistenti, e quindi si è già ricavato precedentemente, oppure crearne di nuovi al momento, tanto per farla semplice, insomma, la sto facendo veramente molto semplice e semplice. In realtà ancora ci sono parecchi vincoli, perché se ad esempio chiedete, che ne so, come è nata l'invasione della Russia in Ucraina, vi dà un link di Wikipedia, se gli chiedete qualche link più approfondito, vi risponde comunque che su Wikipedia c'è tutto quanto quello che vi serve sapere. Anche i link a documentazione esterna, quindi non è una vera e propria risposta. Ma questo vale anche per altre informazioni, per altre domande che gli fate. Se siete esperti di un argomento, ad esempio, provate a fare qualche domanda su quell'argomento e vi accorgerete che non sempre le risposte sono precise o corrette. La versione 4.0 comunque funziona meglio della 3.0 e della 3.5, ma molto dipende anche da come vengono poste le domande. Per comprendere questa cosa, forse sarebbe meglio usare un algoritmo grafico, come ad esempio Midjourney. Anche Midjourney è una intelligenza artificiale, diciamo. È un software a cui potete accedere tramite Discord e è utile per generare delle immagini in base alle indicazioni che fornite. Costa 8 euro al mese e può aiutare a creare delle immagini a partire da una certa frase. Ho fatto delle prove, dei test, così, e li potete vedere poi nel prossimo numero della newsletter. Ad esempio, io ho formulato la frase Viaggio in un'azienda vinicola, molto banale, e Midjourney mi ha fornito quattro disegni piuttosto simili tra loro, almeno come stile. La frase era chiaramente molto semplice, con indicazioni forse più precise avrei ottenuto un disegno migliore. Ho provato con un'altra frase, altrettanto semplice, una coppia seduta ad un tavolo tra le vigne mentre mangia e beve. Ecco, questa era la frase. E sono state generate altre quattro foto, semplici e probabilmente utilizzabili in qualche sito web sull'enoturismo, dove si mettono queste immagini abbastanza generiche. In pratica, invece di andare a prendere le immagini a stock, si possono generare. State attenti anche qui, perché le immagini non sempre sono ben fatte, ci sono alcuni errori proprio nella realizzazione dell'immagine stessa. Poi li vedrete, insomma, cercherò di farveli notare nella newsletter, se vi interessa. In realtà alcune di queste foto sarebbero sicuramente migliori se ve le fate per conto vostro o ancora meglio chiedendo ad un buon fotografo che prenda la luce giusta, l'inquadratura giusta, vi faccia mettere in modo simpatico, in modo da far vedere tutta quanta la campagna che circonda, ad esempio, la vostra azienda vinicola per far vedere le vigne. costruisce insomma delle scene un pochettino più intelligenti di quello che fa l'intelligenza artificiale. Ancora il fotografo è molto più intelligente dell'intelligenza artificiale, quindi il mio consiglio è ancora chiedere a qualche fotografo che sappia bene come fare il suo mestiere. Però, dicevo, Midjourney è anche questo qui uno strumento di trasformazione, non è una chat, ma è semplicemente un generatore di immagini. quindi inserisce l'input, cioè la nostra frase, la nostra domanda, in una macchina, gira la manovella e poi tira fuori la risposta. Fate finta che l'algoritmo sia un setaccio e la vostra domanda sia la farina che ci mettete dentro. Quello che esce è la risposta e dipende non solo dal tipo di farina o di materiale che versate, ma anche dalla forma e dalla grandezza dei fori del setaccio. migliori sono i fori e sono più giusti per quello che sono le vostre esigenze e migliori saranno le risposte che ottenete. Ecco, quello che volevo dire è che più è precisa la domanda e migliore è la risposta. Quindi non basta fare una domanda qualunque, vedere una foto oppure avere una risposta su chat GPT e prendere e fare un copia e incolla banale per fare un comunicato commerciale, ad esempio. Non serve questo. Bisogna studiare bene la domanda da fare che poi è quello che fanno le agenzie di marketing, le agenzie di pubblicità. Chi fa comunicazione fa proprio quello. Si studia prima l'argomento e poi dopo fa comunicazione. In teoria, insomma, quelle migliori è questo per lo che fanno. In questo caso è la stessa cosa. Dovete fare la domanda giusta all'intelligenza artificiale perché rischiate che altrimenti la vostra domanda venga interpretata in maniera errata perché vengono presi dei parametri che non sono quelli giusti e quindi la risposta che vi dà è quella sbagliata o comunque una risposta che non vi serve. Anche parlando con delle persone più precise è la domanda e migliore è la risposta. Però, insomma, avete capito che ancora non è questa manna piovuta dal cielo nel chat GPT anche se a quanto pare soprattutto in Italia noi siamo appassionati di queste cose che non capiamo e ci buttiamo a pesce su può essere il metaverso può essere gli NFT può essere la blockchain tutte cose utilissime che possono essere veramente d'aiuto in alcune occasioni ma vengono usate non soltanto in Italia per carità ma da noi in particolare vengono usate in maniera abbastanza bovina senza molta intelligenza dietro quindi sperando che l'intelligenza artificiale sia un ripiego per la mancanza di intelligenza naturale e invece non è così o almeno non ancora quando succederà ci sarà un po' da preoccuparsi secondo me bene per ritornare un po' all'argomento chat GPT è un algoritmo quindi che prende le cose che gli dite le confronta con i documenti che ha in archivio e poi vi dà una risposta quando Microsoft l'ha comprata a febbraio di quest'anno l'ha inserita nel suo motore di ricerca Bing che è un motore di ricerca che in verità viene poco usato non ha certo ancora la potenza di Google non ancora almeno ora Samsung ha detto che forse invece di usare Google come motore di ricerca potrebbe usare proprio Bing quindi vedremo un pochettino che cosa succede è un mercato molto in evoluzione soprattutto pensando al fatto che le grandi big tech stanno ancora all'interno di questa grossa crisi che le ha per vase un po' tutte quante e che era normale perché dopo un periodo in cui sono esplose hanno avuto capitalizzazioni veramente fuori da ogni logica adesso è il momento di calare e forse di riposizionarsi in una zona un pochettino più tranquilla e anche un po' più veritina quindi se volete usare chat GPT potete ancora usare il sito di OpenAI oppure usare il browser di Microsoft Edge ed il suo motore di ricerca Bing appunto c'è un'integrazione che usa proprio GPT per rispondere alle vostre domande quindi adesso siamo tutti contenti perché abbiamo nuovamente questa intelligenza artificiale e abbiamo nuovamente la IA nell'attesa però che qualcuno si inventi qualcosa a parte creare immagini qualche comunicato commerciale chat GPT è riuscita a creare il miglior cocktail del mondo per un bar di Londra Otherworld Hackney è un bar di Londra che ha iniziato una collaborazione con Dusk che è una start-up nel settore beverage per la distribuzione di bevande quello che stanno facendo è vedere se sia possibile usare chat GPT per la creazione di nuovi cocktail Dusk questa start-up ha sottoposto al chatbot un programma per creare dei nuovi cocktail che potrebbe essere il migliore del mondo e chat GPT ha risposto creando un mix chiamato Heavenly Sippers sia in forma alcolica che analcolica il cocktail ha una base di gin liquore ai fiori di Sambuco assenzio quantro due gocce di bitter all'arancia e un po' di spumante per promuovere questo nuovo mix verranno offerti gratuitamente 400 Heavenly Slippers alcolici e non alcolici per un mese agli utenti di Dusk grazie ad una collaborazione con questo bar con Otherworld Hackney la collaborazione è stata lanciata il 20 marzo è durata un mese e si è conclusa il 20 aprile secondo chat GPT il nuovo cocktail è una bevanda rinfrescante e saporita che combina l'acidità del lime la dolcezza del miele e le sottili note floreali del fiore di Sambuco con un pizzico di sapore di anice questo qui è quello che ha risposto lo chat GPT io non so esattamente cosa sia stato chiesto alla versione 4 di questo bot dell'intelligenza artificiale quindi in base a che cosa abbia mescolato insieme queste bevande anche in questo caso sembra più diciamo c'è un'operazione di marketing che una vera e propria creazione di una nuova bevanda magari non vale niente oppure invece il mix è più buono del mondo questo non lo posso sapere però questo bot ha passato ad esempio gli esami da master sommelier naturalmente il programma non ha fatto l'esame pratico quello della degustazione però ha ottenuto 92 su 100 nel test introduttivo di court of master sommelier 86 nell'esame certified sommelier e 77 nell'esame advanced sommelier non solo GPT 4 ha anche superato il test per l'ammissione alle scuole di legge degli Stati Uniti il low school admission test con un punteggio di 163 su 180 e quindi potrebbe addirittura frequentare le migliori università di giurisprudenza americane se trova qualcuno che glielo impara certo queste due ultime cose cioè la creazione dei cocktail e il passaggio degli esami da sommelier sono poco più che colore o gossip sull'argomento dell'intelligenza artificiale anche la creazione di comunicati commerciali alla fine è soltanto un esercizio di stile io non sono un pubblicitario e non mi occupo di marketing quindi non so se ci sia davvero differenza tra una pubblicità creata da GPT e una creata da un'agenzia di marketing io quasi quasi sarei più contento di sapere che ad esempio Open2Meraliglia sia stata creata da un software come GPT 4 lo stile sembra proprio quello in realtà anche quello delle foto in ogni caso staremo a vedere come verranno usate queste nuove tecnologie secondo me c'è bisogno e necessario proprio un ripensamento da parte del mondo del beverage del food soprattutto del mondo del vino sull'utilizzo di queste di tutte quante le nuove tecnologie questa è una cosa che non mi stancherò mai di dire buttarsi a pesce su una nuova cosa che nasce senza conoscerla non è la cosa migliore da fare prima bisogna sapere come funziona e poi dopo si può utilizzare per fare alcune cose cominciando da qualcosa di semplice magari e poi andando andando avanti ma sicuramente con un po' di accortezza e con un po' di studio sopra ci si possono fare delle cose davvero carine grazie per avermi seguito fino qui in questo episodio un po' da nerd dove però spero di avervi spiegato meglio che cosa è il GPT quello che ormai appunto tutti chiamano intelligenza artificiale se volete chiacchierare sull'argomento potete iscrivervi al gruppo Telegram dei Digital Wine Lovers direttamente da digitalwine.com slash telegram sottolineo anche che sono esattamente 30 anni da quando è stato presentato al CERN di Ginevra il World Wide Web era il 30 aprile del 93 e il World Wide Web il W2W in pratica è l'utilizzo di link cioè sono l'insieme di protocolli che consentono di utilizzare dei link verso specifiche pagine o documenti quindi se volete parlarne ancora c'è il gruppo dei Digital Wine Lovers dove possiamo chiacchierarne un po' di più se poi siete interessati a quello che scrivo sulla newsletter potete iscrivervi su thedigitalwine.com slash newsletter se vi abbonate potete anche finanziare il podcast ed avere ovviamente tutto il mio affetto e ringraziamento e anche per abbonarvi il link è sempre lo stesso thedigitalwine.com slash newsletter questo episodio non sarebbe stato possibile senza collaborazione di One Around che è lo sponsor del podcast se a voi avete un'azienda vinicola un'azienda agricola e volete dare ai vostri clienti un servizio migliore agevolare o semplificare tutta l'operazione di prenotazione della visita e anche l'acquisto dei vostri vini dei vostri prodotti e anche la parte del delivery bene allora One Around è la piattaforma che fa per voi e c'è dentro molta intelligenza non artificiale ma naturale quello di Francesco Cortese e di tutto quanto il suo staff tutte le informazioni le trovate su onearound.com bene anche per oggi la finiamo qui e vi ricordo ancora di bere con moderazione e mai prima di mettervi alla guida ci sentiamo fra qualche giorno al prossimo bicchiere di mettervi alla guida di mettervi alla guida di mettervi alla guida di mettervi alla guida